è passata già una settimana dalla convention ma io sono ancora elettrizzata gasata carica a mille proprio e le convention hanno sempre questo effetto su di noi quest'anno ancora di più perché l'azienda ci ha lanciato una sfida bella tosta e io ho deciso di accettare questa sfida anche perché c'è una bella ricompensa ovviamente questa sfida io non la posso vincere da sola ho bisogno di persone da inserire nel mio team persone motivate che vogliano guadagnare ma e soprattutto vogliano raggiungere il loro obiettivo la loro sfida personale quindi se volete metterli in gioco se volete provare se volete dimostrare a voi stessi prima di tutto ma anche agli altri che siete capaci che valete allora contattatemi entrerete nel mio team io insegnerò tutto quello che c'è da sapere parleremo insieme capirò i vostri perché mi racconterete un pochettino qualcosa di voi e insieme predisporremo un piano un piano d'azione vi darò tutte le cose che so io su questo lavoro lo faccio da quasi dieci anni quindi di cose ne so veramente tante vi sarò vicina vi motiverò vi darò lo sprint quando ne avrete voglia e bisogno e soprattutto arriveremo insieme al risultato e sarà bellissimo per me per voi per tutti quindi volete provare volete mettermi in gioco volete davvero sfidare anche voi qualcosa e allora dai contattatemi entrate nel mio team entrate anche voi nel fantastico team delle mie consulenti ormai siamo quasi 90 quindi 90 persone hanno avuto fiducia in me e continuano ad avere fiducia in me quindi ho bisogno anche di voi vorrei inserire ancora 30 persone e sono sicura che tra di voi c'è qualcuna che mi chiamerà contattatemi qui su whatsapp o sul link che vi lascio sotto ok